E' domenica, oggi c'è il derby, no non parlo di Inter Milan, di Napoli basket contro Scafati Appena entrati nel palazzetto c'era un'area incredibile Hai visto il pala barbuto così pieno? Le due tifoserie erano infuocate Ma inizia il match, primo quarto difficilissimo per Napoli Quindi primo quarto, 16 a 9 per Scafati e tosta, però il tipo è pazzesco Il secondo quarto le cose già iniziano a farsi più interessanti Secondo quarto, 28-32, si accorcia un po' la distanza, si può ancora fare Ma è al terzo quarto che avviene l'incredibile 45-44, ultimi 10 minuti di sofferenza E' il quarto quarto, mancano 30 secondi ed il punteggio è fermo su 69 a 69 Quando Stewart si inventa questo canestro Beh adesso mancano 12,3 secondi 12 lunghissimi secondi di difesa sfissiante, ma poi l'arbitro fischia Stavolta, il derbi E' il quarto quarto